Proseguono i lavori di sistemazione ambientale dell'area dei cantieri Esaum di Portoferraio. I lavori di messa in sicurezza della zona, che alla fine saranno costati all'azienda che gestisce i cantieri portoferraiesi, oltre 600.000 euro, vanno avanti rapidamente a tal punto che entro l'estate se ne prevede il termine. Scopo dei lavori è quello di far scomparire, neutralizzandoli definitivamente, i fanghi derivanti dagli escavi portuali, stoccati da tempo nella sede di Via Cacciò. 6.000 blocchi inertizzati, destinati a scomparire sotto una collinetta che coprirà una vasta area impermeabilizzata e dotata di un sistema di canali per la raccolta delle acque meteoriche. La sistemazione ambientale dell'area, fra l'altro, è stata posta come prescrizione dalla Regione Toscana al momento dell'approvazione dell'accordo di pianificazione per il frontemare di Portoferraio. Per raggiungere definitivamente alla fine della onerosa operazione in corso, ESAOM sollecita ancora una volta chiunque conosca situazioni da segnalare all'interno delle sue aree di pertinenza da bonificare a contattare l'azienda alla email info-esaom.it per telefono o per appuntamento.